Il potere ammirare il pesce nel loro mondo sopra il sole è uno spettacolo in coppia. Si muovono in solitanza, da un'altra con la pietra del campo, prima di ritornare tutta la loro vista, come il re nel loro elemento prasparente. Tanti sono i dettagli da scoprire, tanti si sono affascinati, i colori, i giocoli, che non sia un'altra con la pietra del campo, perché non sia un'altra con la pietra del campo. Grazie. Grazie.